buongiorno oggi facciamo il video per una macchina del caffè a due gruppi della vega con comandi manuali allora come vediamo la macchina è dotata di due bracci uno per braccio doppio braccio singolo e verrà inviato anche l'occhio cieco allora controlliamo togliendo il braccio che la fuoriuscita dell'acqua che ovviamente caccia vapore perché abbiamo fatto riscaldare un pochettino la macchina vediamo anche di qua poi qui c'è il pulsante per far riscaldare il piano superiore per far mantenere in caldo le tazzine controlliamo la parte laterale controlliamo la parte centrale la macchina verrà sanificata nuovamente imballata e spedita al cliente con spedizione tracciata e assicurata no 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 Grazie a tutti.